È una grandissima emozione rincontrare i vecchi professori, i vecchi chef che mi hanno formato, quindi per me è molto importante, molto importante. Poi comunque loro mi hanno sempre sostenuto anche a distanza, visto che lavoro in Francia, quindi è stato sempre portare avanti il mio lavoro e grazie anche a loro che mi hanno dato la forza anche di sempre continuare e di farlo riconoscere dopo tanti anni di sacrificio che poi non sono finiti e quindi c'è ancora tanto percorso da fare. È solo l'inizio. Allora, oggi è un messaggio molto forte per me perché stiamo vivendo in una situazione, come ben sappiamo, il Covid, quindi è molto più difficile la ripresa, specialmente per questi ragazzi che sono molto giovani. Quindi è importante dare la voglia e la forza di proseguire in quello che hanno fatto, anche se in maniera diversa rispetto a come l'ho fatto anche io se sono passati un po' di anni, però l'hanno fatto in maniera diversa, quindi è un messaggio di ripartire.